Account del brand di YouTube e Google, guida completa in italiano by Mirko Delfino. Benvenuti in un nuovo video, oggi continuiamo a parlare di YouTube ed entreremo all'interno del mondo degli account del brand. Quegli account, quei canali YouTube che possiamo andare a creare all'interno di una sola email Gmail. Infatti dovete sapere che Google ci permette di creare questi account del brand per poter gestire diversi servizi all'interno di Google tra cui associare a questi account del brand a dei canali YouTube. Quindi vuol dire, in parole povere, che possiamo andare a creare più canali YouTube associati ad una sola email Gmail. Quindi oggi scopriremo cosa sono questi account del brand, come funzionano, come possiamo crearli, come possiamo trasferirli e come possiamo gestire le autorizzazioni dei nostri canali all'interno di YouTube stesso e di Google. Prima di andare avanti ti chiedo di iscriverti al canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere altri contenuti come questo e quindi rimanere sempre aggiornato per quanto riguarda il mondo di YouTube, di YouTube Automation, Cash Cow Channel, Intelligenza Artificiale. Detto questo cerchiamo di capire quindi bene che cos'è un account del brand. Infatti un account del brand è un account specifico del tuo brand, è diverso dal tuo account Google personale. Infatti se un canale è collegato a un account del brand può essere gestito agli account Google di più utenti. Quindi non occorre una password o un nome utente separato per gestire i canali YouTube con un account del brand. In parole povere noi abbiamo la possibilità attraverso questo account del brand o questi canali che noi andiamo a creare di poter andare a gestire tutto all'interno di una sola email Gmail, come ti accennavo inizialmente all'interno di questo video. E quindi come prima cosa naturalmente sorge spontanea la domanda, come posso creare un account del brand? Eccoci qui, siamo all'interno del mio canale YouTube e per poter creare un account del brand quello che posso fare è andare direttamente, quindi un nuovo canale da associare naturalmente alla mia email Gmail principale, quello che devo fare è cliccare qui in alto. Come potete vedere, quindi vado nell'iconcina di Mirko Delfino, dove in questo caso specifico ho i miei canali YouTube associati alla mia email Gmail principale, tra cui il mio canale YouTube principale, che è quello dove stai vedendo il video. Quello che farò è cliccare su Cambi account, ok? E fatto questo andrò a cliccare su Visualizza tutti i canali. Successivamente si aprirà una schermata dove ci sono i vari canali associati alla mia email, ok? Che io posso naturalmente gestire, che posso andare a essere magari il proprietario principale di questi canali, o addirittura posso essere semplicemente un visualizzatore. Quindi abbiamo diversi permessi che li vedremo più avanti all'interno di questo video. Però quello che devo fare è creare un canale. E infatti, come potete vedere, nonostante io all'interno di queste email Gmail ho già un canale, per esempio Mirko Delfino, e ne ho altri, alcuni adesso non li vedete perché sono oscurati per privacy, quello che farò è cliccare su Crea un canale. Ed infatti, in questo caso specifico, quando vado a creare il canale, posso andare a aggiungere il nome del canale. Quindi semplicemente andrò ad inserire un nome. Una volta fatto questo, cliccherò su Sono consapevole del fatto che sto creando un nuovo account Google con le sue relative impostazioni incluse, la cronologia, eccetera, eccetera. Quindi come potete vedere, stiamo anche creando un nuovo account Google che è poi associato alla nostra email Gmail. E quindi l'unica cosa che devo andare a fare è scegliere il nome del canale e poi cliccare su Crea. Eccoci qui, siamo all'interno del canale che ho creato, che come potete vedere, io ve lo mostro anche qui, è all'interno, si trova all'interno appunto della mia email principale. Voi, ripeto, alcuni dati non li vedete per privacy, ma naturalmente potete capire che sono più canali collegati alla mia email principale. E praticamente ho creato il canale. Se vado all'interno della sezione Impostazioni, come potete vedere, vado su Autorizzazioni, ho la possibilità di andare a gestire le autorizzazioni. Tra poco vi farò vedere come si fa. E quindi, come potete vedere, qui però ce lo dice, continua a gestire le autorizzazioni nel tuo account del brand. Quindi abbiamo creato un account del brand velocemente in questo modo. Naturalmente questo video è dedicato nello specifico a chi vuole creare più canali YouTube e quindi account del brand legati al mondo di YouTube, ok? Quindi io mi rivolgo agli utenti, naturalmente, che vogliono fare questo all'interno di YouTube per avere più canali. Se io vado nella schermata successiva, poi tra poco vi farò vedere come si arriva all'interno di questa schermata, come potete vedere, ecco il canale che ho chiamato, come vi dicevo, Intelligenza Artificial Italia velocemente adesso. E appunto questo è un account del brand, quindi ce lo dice chiaramente qui. Infatti, se vado nella sezione Gestisci Autorizzazioni, il proprietario principale sono io, Mirko Delfino. Quindi io, all'interno del mio canale principale Mirko Delfino, e quindi delle mail Gmail collegate al mio canale principale Mirko Delfino, ho al suo interno altri canali, tra cui, per esempio, questo che ho appena creato, dove io sono il proprietario principale e dove posso lanciare un canale di qualsiasi tipo. Per esempio, potrei decidere di lanciare un Cash Cow Channel. Quindi, per essere ancora più chiaro, qual è la differenza tra un canale YouTube normale classico e un canale YouTube associato ad un account del brand? Il canale YouTube classico è quello associato ad un'email Gmail. Quindi noi creiamo l'email Gmail, una volta fatto questo creiamo il canale e il nostro canale è associato direttamente all'email Gmail. E all'interno del mio canale YouTube ho realizzato un tutorial dove vi mostro come creare un canale YouTube partendo da zero. L'account del brand, quindi il canale che fa parte dell'account del brand, è un canale che fa parte di un'email Gmail, ma non è il canale principale di quell'email Gmail. Quindi, in questo caso specifico, io posso avere all'interno di un'email Gmail più canali YouTube perché creo più account del brand. Arrivati a questo punto, magari vogliamo trasformare il nostro canale YouTube principale associato alla nostra email Gmail in un account del brand perché vogliamo sfruttare tutti i vantaggi dell'account del brand che vedremo anche all'interno di questo video. Come si fa a farlo? Allora, quello che noi dobbiamo fare, in primis, è creare un nuovo canale. Quindi vi ho fatto vedere come si crea un nuovo canale all'interno di YouTube che ci servirà come contenitore per trasferire poi il nostro canale attuale. Quindi immaginiamo che voglio trasformare il canale di Mirko Delfino, il mio canale principale, in un account del brand. Quello che vado a fare, quindi, è andare qui in alto, nel tondino del mio canale. Vado all'interno della sezione impostazioni. Fatto questo, vado all'interno della sezione impostazioni avanzate. Fatto questo, guardate un po', quello che vado a fare è cliccare proprio qui su sposta il canale su un account del brand. Quindi qui, essenzialmente, Google mi dà la possibilità, YouTube mi dà la possibilità di spostare il mio canale su un account del brand. Quindi io clicco qui. Quindi, una volta fatto questo, mi apparirà una lista di canali. Naturalmente devo, come sempre, inserire i dati, essendo che sto effettuando un'operazione sensibile. Quindi voi adesso alcune cose non le vedrete, ma io sto andando avanti e sto effettuando l'accesso all'interno di questa sezione. E come potete vedere, io ho un account su cui trasferire questo canale. Ok? Ce l'ho proprio qui. Va bene? Voi adesso vedrete alcune cose oscurate, ci sta, però qui praticamente avete il canale, che sarebbe Intelligenza Artificiale Italia. Questo ve lo rendo pubblico, tanto comunque l'abbiamo creato assieme. Ora, quello che io farò, naturalmente, è cliccare su Sostituisci. Ok? Fatto questo, come potete vedere, mi dirà YouTube che il trasferimento del canale comporterà l'eliminazione definitiva di questo canale attualmente collegato all'account. Quindi verrà eliminato Intelligenza Artificiale Italia e verrà sostituito da Mirko Delfino. I seguenti elementi, invece, verranno eliminati definitivamente. Questo canale con i relativi video iscritti, mi piace e altri contenuti, i commenti che hai lasciato su YouTube, le tue risposte, i mi piace e i commenti, la tua cronologia delle ricerche e delle visualizzazioni, le tue impostazioni e dei regali. Quindi devo cliccare qui e poi cliccare su Elimina Canale. Ci metterà generalmente qualche minuto, ok? Alcune volte ci può mettere di più. E io avrò il mio canale, ufficiale, in questo caso Mirko Delfino, trasferito all'interno di questo account del brand, quindi io mi ritroverò sempre il mio canale classico Mirko Delfino, naturalmente non esisterà più Intelligenza Artificiale Italia. Ora, io non lo faccio perché non è una cosa che in questo momento voglio fare, perché poi, da questo punto di vista, a seconda di quando voi guarderete il video, magari ci saranno altre cose che verranno eliminate o altre cose che non vengono eliminate, quindi ci saranno delle modifiche, quindi potete sempre leggere la guida aggiornata di Google, da questo punto di vista, però comunque non è una cosa che voglio fare, quindi semplicemente vi volevo far vedere come possiamo trasformare un canale normale in un account del brand. Ma come possiamo vedere gli altri canali YouTube associati alla nostra email, quindi gli altri account del brand, i canali del brand, immaginiamo di avere un canale YouTube. Quindi vi faccio l'esempio banale, il mio canale YouTube, il canale di Mirko Delfino. Il canale di Mirko Delfino è associato a un'email, ok? All'interno di queste email io ho associato anche altri canali, di cui sono il proprietario principale, altri di cui sono gestori e così via. Infatti noi da un'email Gmail possiamo gestire più canali YouTube o essere anche proprietari di più canali YouTube ed è il senso anche di andare a creare gli account del brand per quanto riguarda YouTube. Se io vado qui in alto, per esempio, e clicco sull'iconcina del mio canale, come potete vedere, mi basterà cliccare su Cambia account, ok? E in questo caso YouTube mi mostrerà tutti i canali collegati al mio account, dove io potrò essere semplicemente un visualizzatore, dove io potrò essere semplicemente un gestore, quindi vado a gestire il canale, oppure sono il proprietario o il proprietario principale. Quindi ricordo e ripeto che da un'email Gmail associata al nostro canale principale, come nel mio caso il canale di Mirko Delfino, io comunque posso andare a gestire a 360 gradi altri canali, a seconda dei permessi che io posso andare ad inserire, ma tra poco vedremo come si inseriscono i permessi, ok? Quindi questo è quello che noi vediamo e di conseguenza io sia da PC, sia da smartphone nelle app di YouTube e YouTube Studio, posso entrare all'interno di questi canali e andarli a gestire. Naturalmente dipende il ruolo che io ho. Ma vediamo adesso assieme come posso andare a modificare i permessi di un canale YouTube, ma soprattutto anche come posso trasferire un canale da un'email ad un'altra, quindi da una Gmail ad un'altra, perché la proprietà del canale può essere trasferita anche ad altri Gmail. Quindi di conseguenza quello che io farò è collegarmi come sempre alla Gmail alla quale ho collegati i miei vari canali YouTube. Una volta fatto questo entro all'interno di YouTube Studio, che è la schermata che vedrete adesso, e successivamente quello che devo fare è andare nelle impostazioni del canale, quindi vado qui su impostazioni. Fatto questo si aprirà questa schermata e devo andare all'interno della sezione autorizzazioni, questa qui. Una volta fatto questo, come potete vedere, io ho la possibilità già di intravedere quelli che sono i ruoli del canale in questione. Quindi per esempio qui ho la possibilità di vedere che io sono il proprietario di questo canale e poi ho anche inserito un editor. Quindi in questo caso io posso cambiare il ruolo di quest'altra persona che sta gestendo il mio canale e posso dargli la possibilità di essere un gestore, quindi può visualizzare qualsiasi elemento, gestire le autorizzazioni, trasmettere dal vivo e creare, modificare ed eliminare i contenuti. Può visualizzare qualsiasi elemento nel caso in cui un editor, trasmettere dal vivo e creare e modificare i contenuti, però non può gestire le autorizzazioni o eliminare i contenuti. Un editor limitato che ha le stesse autorizzazioni del ruolo editor, ma non può visualizzare i dati sulle entrate. Un editor di sottotitoli, in questo caso va naturalmente a modificare solo i sottotitoli. Il visualizzatore che può visualizzare qualsiasi elemento, però non può creare, modificare o eliminare nessun elemento. Oppure un visualizzatore limitato che può naturalmente visualizzare un po' tutto, ma non può visualizzare i dati sulle entrate. E poi posso andare a rimuovere l'accesso. Inoltre posso anche andare ad invitare le persone e quindi in questo caso per invitare qualcuno dovrò semplicemente inserire la sua email, Gmail, ok? E dagli una tipologia di accesso. Ma essendo che questo qui non è un account del brand, quindi questo canale non è un account del brand, ok? Io non posso andare a effettuare modifiche o trasferire il canale. Quindi dovrei naturalmente trasformare questo canale in un account del brand per poter poi successivamente, per esempio, poter trasferire questo canale da una mail ad un'altra o comunque dare la possibilità ad altre persone di diventare proprietari del canale o proprietari principali. Quindi adesso io quello che farò è entrare all'interno di un canale YouTube che è un account del brand e vi faccio proprio vedere la differenza tra account normale e account del brand. Ed eccoci qui, siamo all'interno della sezione autorizzazioni e come potete vedere cambia tutto perché a differenza del canale precedente io non ho più la possibilità di invitare qualcuno qui o di vedere i permessi del canale ma come mi dice anche il canale stesso al momento stai gestendo le autorizzazioni del canale tramite un account del brand perché questo canale fa parte di un account del brand, ok? E quindi in questo caso specifico quello che devo fare è cliccare su gestire le autorizzazioni. Generalmente quando andiamo a gestire le autorizzazioni veniamo riportati all'interno di una schermata come questa e se io clicco qui mi dirà di andare ad inserire i dati quindi la password per poter rientrare all'interno del canale e generalmente mi farà fare naturalmente la classica verifica dove io devo andare a cliccare sì oppure andare a ricevere un SMS oppure toccare nella chiavetta fisica e così via. Adesso alcune cose voi non le vedete ma semplicemente sto effettuando l'autenticazione a due fattori. Effettuata l'autenticazione a due fattori io ho ufficialmente la possibilità di poter andare a gestire l'account del brand ok? Quindi in questo caso quello che dovrò fare per gestire le autorizzazioni è cliccare su gestisci autorizzazioni. Posso anche tra le altre cose cliccare su elimina account nel caso in cui voglio definitivamente eliminare l'account del brand quindi se volete eliminare un account del brand tutto quello che dovete fare è andare all'interno di YouTube Studio andare nelle autorizzazioni gestisci autorizzazioni e una volta fatto questo io ho la possibilità invece di gestire le autorizzazioni eliminare l'account del brand così vi ho anche mostrato come si elimina un account del brand. Quello che farò adesso è cliccare su gestisci autorizzazioni e in questo caso specifico come potete vedere c'è un proprietario principale del canale e in questo caso io che sono il proprietario del canale ok? Quindi quello che io posso fare per esempio è cambiare ruolo in gestore oppure diventare proprietario principale generalmente per poter diventare proprietario principale devono passare sette giorni noi consigliamo sempre di farlo dopo otto giorni così siete sicuri che sono passati effettivamente i giorni necessari per poter diventare proprietario principale di un canale faccio un esempio banalissimo avete deciso di passare da una mail gmail ad un'altra mail gmail un canale perché magari la vecchia mail gmail non la volete utilizzare più e ne volete utilizzare una nuova solo dedicata a questo una volta fatto questo passaggio ok? voi potrete naturalmente semplicemente inserirvi come proprietario infatti vi faccio vedere tra poco come si inserisce un'email come proprietario non potete direttamente mettere il proprietario principale una volta che sono passati sette giorni gli otto giorni quello che voi dovete fare è semplicemente andare all'interno di questa sezione trasformarvi in proprietario principale e come potete vedere come proprietario principale potrai aggiungere ed eliminare altri proprietari e gestori modificare le autorizzazioni relative all'account incluse le tue eliminare completamente l'account quindi quello che noi dobbiamo fare è cliccare su trasferisci e quello che succederà è che come avete visto è cambiato adesso noi ufficialmente in queste email siamo proprietari principali mentre l'altra email non ha più la proprietà principale del canale ma è solo proprietario posso anche decidere per esempio di trasformarlo in gestore o ancora meglio anche per una sicurezza in più del canale se non voglio utilizzare un email dove magari non ho un'identificazione a due fattori o che non uso più quello che vado a fare è rimuovere quindi se io voglio rimuovere una persona quindi qualcuno che ha un ruolo all'interno del canale quello che devo fare è cliccare sulla X su rimuovi e una volta fatto questo naturalmente in questo caso l'utente non potrà più accedere al canale agli eventuali contenuti eccetera eccetera quindi quello che vado a fare è cliccare su rimuovi e siamo unicamente noi i proprietari principali del canale ma adesso vediamo se io volessi invece trasferire questo canale ad un altro canale ok quindi immaginiamo un email che è lillochiocciolagmail.com ok e vogliamo trasferirla invece a francescochiocciolagmail.com lo posso fare adesso vi mostro come si fa vediamo quindi come trasferire un canale youtube da un email gmail ad un'altra quello che devo fare è cliccare quindi su gestisci autorizzazioni come vi ho fatto vedere precedentemente all'interno di questa schermata cliccherò qui in alto sull'iconcina invita nuovi utenti fatto questo si aprirà questa schermata posso naturalmente scegliere il ruolo se voglio inserirlo come proprietario o come gestore ok e un'altra cosa fondamentale che andrò a fare è andare ad inserire l'email quindi io quello che farò in questo caso è incollare l'email in questa schermata vado a cliccare poi sull'email in questione alcuni dati voi per privacy non li vedrete ok ma ho copiato un'email gmail e incollato un'email gmail all'interno di questa schermata fatto questo clicco su invita una volta fatto questo cosa succede? succede che l'email gmail in questione riceverà un email da parte di google dove deve andare ad accettare la proprietà del canale quindi bisognerà entrare all'interno di questa email gmail e cliccare su accetta quindi una volta invitato un'altra email gmail a diventare proprietaria di un canale youtube con la procedura che abbiamo visto poc'anzi quello che succederà è che google ci invierà un email di questo genere ok quindi riceveremo direttamente un email da google in questo momento come potete vedere appare il testo google my business poi queste cose possono variare nel corso del tempo queste schermate queste email ma generalmente la riceveremo da google o da youtube se cambierà un giorno quindi quello che noi dobbiamo fare semplicemente è cliccare su accetta invito una volta fatto questo si aprirà una schermata come questa e dobbiamo cliccare nuovamente su accetta ecco che ufficialmente siamo diventati proprietari di questo canale perché tra le altre cose andando su gestisci autorizzazioni adesso probabilmente mi farà fare la verifica quindi io la faccio al volo e queste sono cose importanti perché queste verifiche ci permettono naturalmente di rendere più sicuro il nostro account il nostro canale cliccando su gestisci autorizzazioni come potete vedere in questo caso abbiamo invitato immobili digitali quindi ho fatto un altro test ed ecco che siamo proprietari del canale se voglio provare magari a diventare proprietario principale quello che succederà vedete qui mi dirà che io clicco su trasferisci ma qui in basso mi dirà che devono passare da più di sette giorni quindi dobbiamo essere almeno gestori da almeno di più di sette giorni ok quindi è una cosa che naturalmente non possiamo fare in questo momento perché abbiamo appena passato il canale altra cosa molto importante abbiamo questa guida di google che vi invito magari andare a leggere dopo aver visto questo video che va a chiarire un po' tutti i punti che abbiamo già trattato nel video tra le altre cose google ci dice che ha senso creare un account del brand associare un canale youtube ad un account del brand per esempio quando vogliamo gestire più canali da una sola email gmail che è quello che vi ho mostrato io oppure se non vuoi che gli spettatori visualizzano il tuo nome o il tuo indirizzo email se non esiste un'associazione pubblica tra il tuo account google e l'account del brand quindi magari hai un canale che si chiama nome e cognome vuoi creare un altro canale ma vuoi mantenere il tuo nome e cognome allora in quel caso vai a creare un account del brand e quindi un nuovo canale youtube che sarà specifico magari per un canale dove mostrerai video sugli animali detto questo all'interno di questa sezione c'è di questa pagina c'è una sezione molto importante che è quella delle funzionalità supportate quindi ci fa vedere la differenza di quelle funzionalità che possiamo accedere attraverso l'account del brand rispetto per esempio alle classiche autorizzazioni del canale che abbiamo su youtube studio nell'app di youtube studio e nell'app normale di youtube per esempio come vi ho fatto vedere nell'account del brand non abbiamo questi ruoli ruolo di editor editor limitato visualizzatore visualizzatore limitato ed editor di sottotitoli tutte le altre cose invece le possiamo fare perché come potete vedere c'è scritto tutto sì quindi io vi invito naturalmente quando volete creare il vostro account del brand di andare a vedere questa sezione questa tabella così saprete esattamente cosa potete fare per esempio vedete nell'app di youtube anche qui alcune cose non possono essere fatte quindi dove c'è la spunta vuol dire che si possono fare dove c'è il trattino invece significa che non si possono fare e poi in basso troviamo anche la differenza tra i ruoli che è fondamentale che abbiamo accennato più volte all'interno di questo video ma uno dei motivi per creare l'account del brand è proprio andare a creare dei ruoli ben specifici infatti come vi dicevo anche poc'anzi per esempio in studio abbiamo la possibilità al massimo di andare ad inserire un proprietario quindi puoi seguire qualsiasi azione su tutte le piattaforme tra cui eliminare il canale o gestire live streaming non può trasferire la proprietà ad altri utenti quindi per esempio non si può fare questa cosa e ve l'avevo già accennata mentre per quanto riguarda l'account del brand possiamo avere un proprietario principale più proprietari e qui ha senso quando vogliamo per esempio essere all'interno di un canale youtube insieme ad un altro socio un'altra persona come proprietari entrambi e quindi andiamo a creare un account del brand proprio per questo motivo poi abbiamo la possibilità di essere gestori studio e essere gestori anche nell'account del brand e poi ci sono tutti gli altri ruoli che per esempio non abbiamo all'interno dell'account del brand abbiamo però questo ruolo amministratore delle comunicazioni non puoi seguire alcune azioni su youtube ma serve appunto ad amministrare appunto le comunicazioni e poi cosa fondamentale youtube ci spiega che sta lavorando per introdurre un numero maggiore di ruoli per le autorizzazioni nel corso dell'anno infatti alcuni di questi ruoli sono stati introdotti dopo un'altra domanda che mi avete posto sia qui su youtube sia all'interno delle storie di instagram è come spostare un canale che fa parte dell'account del brand per esempio intelligenza artificiale Italia che abbiamo creato assieme è un canale che fa parte dell'account del brand all'interno dell'account google tutto quello che devo fare è ritornare all'interno di questa schermata nelle impostazioni avanzate abbiamo già visto come si arriva quindi non lo rifaccio e qui su sposta canale come potete vedere io posso spostare il canale sull'account google io clicco qui e come potete vedere all'interno di questa schermata mi apparirà appunto il mio canale Mirko Delfino che è l'account associato alla mia email di gmail in questo caso specifico e avrò il mio canale attuale quindi se io volessi per esempio il canale che ho realizzato adesso che ho creato con voi intelligenza artificiale Italia associarlo alla mia email gmail all'account google in maniera che sia il canale principale tutto quello che devo fare è entrare all'interno di questa schermata selezionare il canale in questione che è Mirko Delfino e cliccare su sostituisci naturalmente in questo caso cosa succede che il canale Mirko Delfino viene eliminato e quindi poi intelligenza artificiale Italia diventerà il canale principale del mio account google ti ringrazio per l'attenzione ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto